La Beretta APX Centurion è la versione più piccola della APX Full Size. Per lo smontaggio segue esattamente lo stesso procedimento della sorella maggiore. Innanzitutto bisogna controllare che l'isarma sia scarica, quindi estraiamo il caricatore e controlliamo la camera di cartuccia se è vuota. A questo punto abbiamo un problema di disarmare il percussore. In genere si preme il grilletto, ma è un sistema che può essere rischioso. Beretta ha introdotto un nuovo sistema. In pratica bisogna arretrare di 3 mm il carrello e premere questo pulsante. In questo modo il percussore è disarmato. Dobbiamo premere questo pulsante e ruotare la leva di smontaggio e sfilare il carrello. In questo modo abbiamo liberato il fusto dal gruppo carrello-canna, canna, molla con guida molla, canna e carrello. Il rimontaggio segue il procedimento contrario. Inseriamo la canna nel carrello, posizioniamo la molla con il guida molla, e infiliamo sul fusto. e infiliamo la canna nel carrello. In questo modo, il rimontaggio è un po' di più 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 di più. Questo perfetto è un passaggio dove si risponde riguarda tutto per sempre di più di più.